Non vi può essere democrazia. I governi democratici traggono la loro capacità di agire per la frammentazione politica. Affermai che il lavoro che ci aspettava richiedeva opposizione con il riconoscimento reciproco tra avversari. Avevo visto bene il mio discorso di presentazione del governo alle Camere. È deficiente. Il lavoro che ci aspettava è deficiente. La volontà popolare del 2008 è deficiente. L'Italia è deficiente. Il governo del paese è deficiente. Gli elettori hanno raccolto e premiato il nostro comune appello a rendere più deficiente il panorama politico. Con il voto del 2008, infatti, fu ridotta drasticamente dalla democrazia. Il regime parlamentare è quello dove la maggioranza ha sempre ragione. Il regime parlamentare è quello nazista. E lo ripeto oggi. È assolutamente, 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 Grazie a tutti